bene ragazzi qui c'è un nuovo episodio di troiango strategy allora siamo riusciti a sconfiggere i due fratelli solo che prima di fare l'altra sorella è riuscita una missione nuova nella taverna devo rifare questo aspetta qua che dobbiamo fare ma quindi dobbiamo arrivare alle porte nel castello allora se non ci vuole per forza sono dieci posti ah sì ce li facciamo bastare forse posso togliere questa mettere un'altra che cura ok vediamo dove sono posizionati ecco ah ok è è è è è Oh no! E loro scendono quando vogliono. Noi invece ci hanno mai fatto il culo per salire. Interessante. E' addirittura riesci a fare un attacco da là in fondo. Fantastico sto Archer. I'll do my utmost. I'll give it my best. I'll show you what I can do. Time to take action. Allow me. Two ashes. Leave everything to me. What a pain. Well that worked. Cool heads shall prevail. Your wounds are here. Where was I? A cold wind blows. Charge. Brace yourself. My stratagem is superior. For the honor of House Wolford. Perish. May I? It's for a better world. Now. 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 I'll take it from here I must remain calm I really feel like I've grown I will end this With the powers in me Leave everything to me This might sting some Cool heads shall prevail Allow me Sorry to worry you Time for some research For victory Defeat is not an option Death from above For the greater good To be honest And I'll take moles In the main To be honest Sì, sì. no 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 ma come fa i must remain calm ha we're not done here so it falls to me my research bears fruit cool heads shall prevail the tides are turning and press i won't lose brace yourself brace yourself i 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 withstand this there there i'll help you splendid results i i must remain calm i 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 forward i 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 è fine sì, molto effettivo devo rimanere calma ora now let me heal your wounds allow me thank you charge it ends here now for the greater good defeat is not an option now it's my turn ain't over yet thank you strike while the iron's hot can you manage your sword it's my turn so it falls to me come on i must remain calm this should do it my turn this is it this is where you fall now i shall do what i can your wounds are healed you have my thanks i'll do my utmost defeat is not an option here now leave everything to me i'll do it i'll do it A brief respite Now this is something Stripe while the iron's hot I will do what I can Splendid That was close Where was I? For the greater good This may hurt Yes, I did it I'll help you So it comes to battle This'll do it Cool heads shall prevail Allow me Thanks For the honor of House Mulford Perry What have we here? Ok, abbiamo completato questa missione Oh, ferro di qualità, pietra di qualità Ah, ci dà abbastanza cose, dai Non è male Sai che l'unico che non dà è pietra Ok, grazie a Dio riesco a completare questo Ok, grazie a tutti Grazie a tutti. Ok, io direi che possiamo andare a fare la missione principale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, quello di ghiaccio conviene che non lo usiamo. Allora, questo qua lo possiamo togliere. Allora, quindi dice di utilizzare elementi magia. Ma io sinceramente più di tanti non le voglio usare. Anzi, secondo me è meglio gli aceri. E addirittura usa questa, no? Allora, questa no. Allora, vediamo un po'. Allora, qualcuno per far incazzare la gente. Per curare ce ne ho due. Io questo lo toglierei. Metto questo. E poi, forza... Mettere una cera. Il problema è che si dividono in due gruppi. Se siamo andati in un gruppo solo e basta. Tutto da un lato. Va, diciamo. Tutto da un lato. No, ma quindi camminano. Camminano nell'acqua. Anzi, ecco perché sono elettrici. Se sono elettrici ce lo prendiamo nel culo. Ma che ci fa questa? Ma che l'ha messa? Ma ce l'avevo pure? Ma la ricordo manco. Ma che l'avevo pure? Ecco, i due ci volevano. Se vanno nell'acqua ci volevano. E chi ne sapevo che andavano nell'acqua. Faccio loro. No need to panic. E chi ne sapevo che andavano nell'acqua. Credo che non potessero andare nell'acqua. Ma che ci fa questa? No, vabbè, scusa. Di pazienza, non mi piace. Ma chi cacchio l'ha messa? No, vabbè. No, mi ha avvicinato. 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 Mi ha avvicinato. No, mi ha avvicinato. Lo togli! No, mi ha avvicinato. No, non è dietro. 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 ma è dietro. Non è dietro. cco a te. mamma mia quanto tolgono dobbiamo far fuori sti manchi del cavolo ma mi faccio vedere io i've been waiting for this push on through come l'ammazzano a quello come l'ammazzano come l'ammazzano oh buono il mago via via ok perfetto madonna mia che attacco fa questo a tre madonna mia ha distrutto eh and where shall we strike i am your shield allora doppio oggetti ok bye here you go thank you here you go the tides are turning allow me allow me to 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 Grazie. Questa avvelenava? No, l'ho mancato. Che cavolo. Non vale, perché curi? No, l'ho mancato. So, l'ho mancato. I've been waiting for this. Outta my way. Gotcha. Grazie a tutti 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 Yeah Eh, ma speriamo che non ci fa l'elettrico Grazie a tutti 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 Grazie a tutti